Massimiliano Albarella di MTA Iesi, ci racconti un po' cosa fate? Noi siamo un'associazione sportiva, facciamo tennis principalmente, ma comunque anche padel, abbiamo un centro sportivo che Iesi in via Matteo Ricci. Con te vedo due allieve, credo. Quanto è che vi allenate ragazze? All'MTA da quasi tre anni adesso. Io cinque, quattro e cinque. Come mai avete scelto questo sport? Per le emozioni che mi davano e per la tipologia di gioco a singolo. Più che altro perché all'inizio era anche uno sfogo, cioè era una cosa liberatoria. Quante volte a settimana vi allenate? Cinque giorni, cinque giorni. Bello impegnativo. Sì, sono due delle nostre migliori atlete, comunque noi a livello agonistico siamo riconosciuti perché fanno anche attività internazionali, insomma non solo in Italia ma in giro per l'Europa. I prossimi progetti? Allora, i prossimi tornei sono qui nella zona e poi partiamo per gli ETF in Croazia, Spagna, Spagna, andiamo in Puglia. Sì, dobbiamo un po' di ciri a fare. Quando? Adesso è inizio ottobre e fine novembre. Quindi è vicino, siamo a ridosso alla competizione. Sì. Benissimo, io la ringrazio. Grazie a voi.